ciao a tutti oggi prepareremo i brutti ma buoni al cacao il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa gli ingredienti sono granella di nocciole zucchero semolato albumi e cacao amaro diamo il via la ricetta siamo all'interno del boccale lo zucchero semolato e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 veniamo sul fondo del boccale lo zucchero posizioniamo la farfalla versiamo gli albumi e facciamo montare gli albumi azionando il bimbi per 4 minuti 37 gradi velocità 3 e mezzo gli albumi sono montati adesso aggiungiamo il cacao amaro e la granella di nocciole e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 3 e mezzo a questo punto riuniamo un po sul fondo con la spadola lasciamo sempre la farfalla chiudiamo con il coperchio e il misurino facciamo cuocere per 7 minuti 80 gradi velocità 1 composto è pronto trasferiamo in una ciotola e lasciamolo raffreddare il composto si è raffreddato adesso con l'aiuto di due cucchiai andremo a posizionarlo su una teglia rivestita da carta da forno distanziamoli bene e proseguiamo così per il resto del composto adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 150 gradi per 20 minuti i biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di rimuoverli dalla teglia brutti ma buoni al cacao grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti